L'ora Bene, adesso padroneggiamo i numeri ed è il momento di imparare a parlare del tempo, a chiedere l'ora e altre espressioni di tempo. Qual è la domanda più comune? Naturalmente è Scusi? Che ore sono? Scusi, ora è quattro ore? Scusi, ora è quattro ore? Scusi, ora è quattro ore? La risposta alla domanda che ore sono comincia con sono le... Cominceremo con l'una e per non annoiarci aggiungeremo ad ogni ora qualcos'altro. Ripeteremo le parti del giorno e anche i numeri, ad esempio l'una di notte. Le tre e trenta e le tre e mezzo sono la stessa cosa. Se sono le quattro e quindici, preferiamo dire le quattro e un quarto. Le quattro e un quarto. Io si ci ugovin. Io si ci ugovin. Quando arriva il mio caffè? Sono già le cinque meno un quarto. 5時15分前 Le 6 e 20 6時20分 Le 7 di sera 8 alle 7 7時8分前 Peccato, l'aereo ha decollato 9 minuti fa 9分前 Il prossimo pullman partirà entro 10 ore 10時間後 10時間後 È tardi, sono le 11 di sera A che ora si alzano i pigroni? A mezzogiorno o 12? Mezzogiorno Il tempo si conta in secondo, minuto e ora Sono certa che lo ricordate, ma è troppo importante per non ripetere Un quarto e mezzo Adesso è mezzanotte E per concludere, ricordiamo Giorno Settimana Yobi Shuu Yobi Shuu E naturalmente Mese Anno Giorno 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 Giorno